Comunque voi la vedrete certamente, anzi voi la costruirete, dipenderà molto da voi come sarà l'Italia nel 2000 e 61, dipenderà molto da voi. Quello che io posso più che vedere augurarmi è che sia un'Italia più serena, più sicura di sé, un'Italia che sappia essere consapevole delle sue grandi tradizioni perché noi siamo eredi di uno straordinario patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale. Dobbiamo difenderlo, tutelarlo, valorizzarlo e dobbiamo saperlo coltivare perché il mondo questo si aspetta da noi, da tutte le parti del mondo si guarda all'Italia per questa nostra tradizione, per questo nostro patrimonio. E nello stesso tempo bisogna che sia un'Italia più serena, meno lacerata, meno divisa, che la lotta politica non sia una guerra continua, che ci sia rispetto reciproco anche tra le parti che fanno politica e competono per conquistare la maggioranza nelle elezioni. Bisogna che ci sia un'Italia la quale sia rispettata in tutta la comunità internazionale per il contributo che essa dà e anche per l'immagine che può dare di sé, immagine sul piano culturale, sul piano civile e sul piano morale. Mi auguro che sia così l'Italia del 2061, datevi da fare sin da ora perché sia realmente così.